Siamo a fine 2020 e non si sa ancora cosa ci aspetta nel 2021, ma una cosa la sappiamo già, le prossime uscite di Netflix previste per gennaio 2021! Mentre vi ricordo le solite cose che vedete nelle grafiche, e non fate finta di non vederle, stravolgo un minimo la solita routine partendo prima dalle serie tv, perché la primissima l'attendo con molta ansia. Parto quindi subito dalla terza stagione di Cobra Kai, una stagione che attendo appunto con ansia dopo essermi visto tutto d'un fiato le prime due stagioni a fine agosto, ricordo c'è anche un video precedente a riguardo, che questa serie è stata commissionata anni fa da YouTube, ma Netflix ne ha acquisito i diritti e rilasciato nuovamente in pompa magna, con tanto di terza stagione che sembra essere in parte sulle orme del buon Pat Morita, scusate il maestro Miyagi volevo dire, e risolverà il finale al cardiopalma della seconda stagione. Fortunatamente qualcuno dal trailer ha riaperto gli occhi. La battaglia per recuperare il dojo, ma soprattutto quella relativa al dare un insegnamento positivista e di crescita ai ragazzi sono ancora aperte, fortuna che dobbiamo aspettare veramente pochissimo. Arriva anche una serie francese con Omar Sy, dedicata all'ardro gentiluomo per eccellenza Arsenio Lupin, e no, non c'entra nulla il nostro buon Lupin terzo giapponese, la trama è semplice, con il nostro protagonista che prendendo spunto da un libro su Lupin, decide di vendicarsi per la morte di suo padre avvenuta dopo un'accusa falsa relativa ad un crimine. Dal trailer sembra una serie ben fatta e di spessore, quindi se vi piace il genere uno sguardo è da dare anche se francese. Eccoci ad una serie turca, 50 metri quadri, che mi pare interessante. Un assassino, mettendosi contro le persone per cui lavorava, decide di darsi alla macchia e finisce per nascondersi in una sartoria dove viene preso per il figlio del proprietario dalla stessa. A quel punto decide di sfruttare la cosa per nascondersi, perché ovviamente cosa mai potrà andare storto con queste premesse? Nulla, nulla! Altre serie in arrivo sono La leggenda di Isla Nublar, serie giurassica per bambini in uscita al primo dell'anno, poi arriverà la quarta stagione di Carmen Sandiego, altra serie teen, la terza parte di Disincanto, una serie adult, e la mitica Dawson Creek che tanti traumi ci ha dato, tutte previste per il 15 gennaio. Passo ora ai film con What Happened to Mr. Cha, un film commedia coreano che tratta la storia di un ex attore che prova di riportare in auge la sua carriera, ma che ovviamente si trova costretto a fare i conti col suo passato che stranamente viene a sbattere alla sua porta. La mia lista ormai è piena di produzioni interessanti dalla Corea del Sud e questo si aggiungerà. Un film non Netflix che mi pare però interessante inserire in lista è Auguri per la tua morte, una commedia horror che prende spunto dal giorno della marmotta col mitico Bill Murray per trascinare una povera ragazza in un loop infinito relativo al giorno della sua morte. Ammetto di essermelo perso all'uscita cinematografica, lo vedrò quindi in streaming. In uscita Outside the Wire, un film di fantascienza che spero mi faccia dimenticare la visione di The Midnight Sky, tratta della storia di un pilota di droni che viene mandato in una zona di guerra dove assieme ad un androide dovrai individuare un dispositivo degno della fine del mondo. Giusto per chiarire, è l'androide ad essere l'ufficiale in comando. Altri film degni di nota sono tutta la serie di Spider-Man originale, i diritti sono di Sony, in arrivo il primo dell'anno e Rocketman, in arrivo il 2 gennaio, che si sposta da Prime Video. Concludo le uscite di Netflix con i documentari partendo dalla storia delle parolacce, una serie che già dal titolo fa capire di cosa si parla e certo non la si può evitare. Unico problema è che tratta di quelle in lingua inglese. Se ci fosse una versione italiana, penso potrebbe durare dalle 5 alle 7 stagioni e comunque non completare la discussione. Il documentario Surviving Death, cosa c'è dopo la morte, mi lascia alquanto interdetto perché vuole esaminare le possibili evoluzioni della vita dopo la morte in base ai racconti di chi ci è andato vicino. Non so come sarà tarata, ma il rischio che sia una cosa per complottisti religiosi è molto alto. Adesso con questa crack, cocaina, corruzione e cospirazione andiamo su un documentario abbastanza esplicito che si prefigge di analizzare la traiettoria dell'uso di cocaina iniziata nelle feste dei ricchi e poi esplosa come problema sociale tra le fasce più povere degli USA. Tutto questo condito con passaggi politici e il cambiamento di approccio della società. Ancora una volta il mio tempo con voi è finito. Se non lo avete già fatto, guardatevi le uscite di questo dicembre. Intanto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e condividete questo video. Avete come sempre la possibilità di supportare le mie attività andando su marco.dia.net e di contattarmi tramite i miei social. Adesso non vi resta che aspettare la seconda parte sulle uscite di gennaio 2021. Ciao!